blogos web radio bentornati su radio blogos da filippo milani dopo aver affrontato nei podcast precedenti i diversi aspetti che caratterizzano la cooperativa valle del marro libera terra questa volta si parlerà di un altro modo che anni giovani per comunicare la loro voglia di cambiamento e farlo anche divertendosi infatti vi proponiamo l'intervista con paolo sofia cantante di quarta aumentata un gruppo musicale che da anni attraverso la musica e la danza interpreta la voglia di riscatto delle nuove generazioni di calabresi coniugando musica contemporanea e tradizionale in un sound tipicamente mediterraneo ascoltiamo tutti siamo qui con paolo di quarta aumentata appena finito il concerto a san giorgio morgetto comandata va bene bene ci siamo divertiti a parte qualche incidente durante il concerto ma con la musica passa tutto ok noi siamo qui innanzitutto per chiederti come è nato questo progetto da quanto suonate il progetto è nato nel 99 con l'idea di dare proprio un marchio al nostro sound che quello della musica mediterranea infatti quarta aumentata è un intervallo che caratterizza la musica mediterranea e quarta aumentata intanto specifico che significa che il non è altro che un intervallo musicale per intervallo musicale si intende la distanza che passa da una volta all'altra e quarta aumentata proprio l'intervallo che caratterizza la musica mediterranea ok infatti noi abbiamo ascoltato la vostra musica stasera abbiamo ballato con voi e quindi volevo chiederti questa unione tra musica tradizionale e musica più moderna come come lavorate per per ottenere questo risultato guarda questo frutto delle nostre esperienze musicali a noi ci piace dire che dalle dal cuore in giù siamo ben messi nelle radici di questa terra e dal cuore in su invece ci guardiamo a 360 gradi quello che succede in tutto il mondo il nostro sound è particolarmente basato sulla ritmica grazie al fatto che comunque ci affacciamo sul mediterraneo quindi siamo vicini all'africa come come hai visto ci sono molte percussioni quindi il primo impatto l'impatto che si ha è quello di una botta che ti arriva alla pancia ti fa muovere assolutamente elegante poi dentro ci mettiamo il colore e l'atmosfera che caratterizzano la calabria ecco invece per quanto riguarda i testi i temi di cosa parlate se sono musica tradizionale invece quando fate canzoni vostre di musica quindi contemporanea di che cosa parlate quali sono i temi a cui siete più affezionati ma cerchiamo di attenerci a quelle che sono realtà di questa terra e non solo ironizzando su delle tematiche dei problemi che purtroppo esistono in questa madre terra che tanto amiamo e tanto ci da rabbia le storie che raccontiamo sono storie attuali come non mi voglio maritare che racconta ironizzando appunto un dato di fatto che quello che molti non si sposano per scelta ma molti non solo in calabria ma anche in italia non possono permettere solo questo questo lusso poi raccontiamo storie vere attuali di pescatori tipo il primo disco a partitolo a notte fattatini che racconta la morte di un pescatore che ha perso appunto la vita durante un giorno di lavoro è una storia vera è caduta al padre di un nostro carissimo collaboratore e poi cerchiamo di di raccontare una calabria diversa sotto alcuni aspetti molti si si piangono addosso noi si cerchiamo di raccontare i problemi di questa terra però cercando di sdrammatizzare e facendo vedere quelle che sono le la facciata positiva di questa terra che non è fatta solo di indrangheta ma ci sono anche realtà come le nostre che cercano di dare qualcosa di positivo infatti uno dei testi di quelli in italiano sento che cantavi cantiamo per cambiare cantiamo per chi non non può più sognare non sognare purtroppo è un mondo immaginario dove si spera che attraverso la danza si possa esorcizzare quello che è il male di questo mondo quindi vedo un po un mondo immaginario che si unisce in una danza collettiva quindi volevo chiedere che funziona la musica e la danza in questa terra e anche come diciamo un segnale di speranza per i giovani che vogliono effettivamente cambiare ma guarda ti dico effettivamente con il nostro progetto vediamo che molti giovani i giovani sono avvicinati a questo tipo di musica forse perché probabilmente quello che dicevamo all'inizio la funzione delle nostre esperienze che comunque incrociano incastrano l'antico con il moderno e quindi rende molto più fribili da questo tipo di musica e riesce ad avvicinare anche le nuove generazioni attraverso la musica cerchiamo di trasmettere quelli che sono i contenuti che dicevo prima le speranze di questa gente di questa terra so che avete fatto concerti anche per libera per altre associazioni che si occupano proprio fortemente di lotta alla mafia di queste come come vi ponete rispetto a queste realtà che stanno in qualche modo cercando di cambiare questo questo strato e soprattutto di dare consapevolezza ai giovani che si può fare qualcosa noi cerchiamo di assolutamente di incoraggiare queste iniziative solo che noi le nostre sole armi che abbiamo sono le musiche e la penna noi possiamo non fare altro che scrivere canzoni cantare alla gente cercando che diano qualcosa qualche messaggio di importante e a quanto pare sta funzionando un'ultima cosa volevo chiederti voi suonate qui in calabria ma immagino anche anche fuori insomma cercate di uscire come comunicati insomma tutto questo al resto d'italia guarda uno dei limiti per i per i gruppi che fa musica cantando in vernacolo è proprio questo il comunicare noi quello che stiamo cercando di fare di ovviare attraverso la musica il ritmo i testi un po sono penalizzati però intanto prendevano quella musica il pubblico poi piano piano una volta preso poi andrà ad esaminare il testo a tradurlo anche bene se desiderate avere maggiori informazioni sui quarta aumentata e sulle loro iniziative visitate il sito www.quarta aumentata.it per ascoltare i nostri podcast invece visitate www.ilblogos.it per oggi è tutto un saluto e alla prossima